La gente come noi, la gente come noi, la gente come noi non vada mai, la gente come noi non vada mai, la gente come noi non vada mai, la gente come noi, la gente come noi non vada mai. Questa mattina lei è venuta qui in Piazza del Povolo per salutare Puzzer, cosa pensa di questo nuovo leader di un movimento Green Pass? Intanto non penso che lui sia un leader perché non lo vuole essere, penso che lui interpreta, si è trovato costretto in qualche modo a essere un comunicatore, interpreta il pensiero di milioni di persone che ritengono che il Green Pass sia un provvedimento antidemocratico. Noi lotteremo tutti insieme affinché tutti noi possiamo essere liberi di viaggiare, liberi di entrare in un ristorante, al cinema, al teatro, di lavorare, di lavorare, come si può congelare uno stipendio a una persona che non ha il Green Pass quanto a questi fiduci politici. E' una vita che ci stucca nel sangue e alla limpa, che attraverso le nostre tasse, che hanno i privilegi, i vitalizi, i radiari, l'internizzo. Vergogna, vergogna! Vergogna! Ha anche diminuito adesso, adesso anche la pensione per gli invalidi, chi ha un lavoretto gli tolgono 280 euro. Trinito! Vergognavi! Cosa vi aspettate adesso da Puzzer? Ma da lui nulla in realtà, è una delle tante proteste che si esprimono in tantissime piazze, perché non c'è solo Trieste, c'è Milano, c'è Bologna, c'è Torino, c'è Firenze e nessuno dà voce a queste manifestazioni. Trieste interessa perché è un danno economico, per cui adesso chiuderanno le manifestazioni. Il Covid colpisce solo Trieste, stranamente, le altre manifestazioni al Covid non piacciono. Il Covid colpisce solo Trieste, stranamente, le altre manifestazioni al Covid non piacciono.